Ci può dire quale misure ha adottato il governo circa lo scandalo delle banane? Abbiamo provveduto a far nominare una commissione che con la dovuta energia e la relativa sollecitudine provvederà a far piena luce su questo ingrescioso avvenimento nel quadro di un maggiore e più alto ideale di giustizia. Ecco, in questo momento è giunto l'onorevole Micozzi. Mi scusi onorevole, vuol dirci che misure ha adottato il governo circa lo scandalo della farina? Eh, abbiamo provveduto a far nominare una commissione che con la dovuta energia e la relativa sollecitudine provvederà a far piena luce su questo ingrescioso avvenimento nel quadro di un maggiore e più alto ideale di giustizia. Scusi onorevole, vuol dirci che misura ha adottato il governo circa lo scandalo degli enti di assistenza? Abbiamo provveduto a far nominare una commissione che con la dovuta energia e la relativa sollecitudine provvederà a far piena luce su questo ingrescioso avvenimento nel quadro di un maggiore e più alto ideale di giustizia. Onorevole Micozzi, ci vuol dire quali sono stati i provvedimenti del governo nei riguardi dei casi di corruzione registrati proprio in seno alle commissioni che il governo aveva nominato per far luce sui recenti scandali? Eh, abbiamo provveduto a nominare una sottocommissione che con la dovuta energia e relativa sollecitudine provvederà di indagare sull'operato delle commissioni che avevamo nominato per ordinare Grazie a tutti